Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video, confesso subito, ho fatto di nuovo shopping ma era previsto, come avevo anticipato nel video precedente, ho svuotato un po' l'armadio, ho buttato via delle cose che erano ormai consumate, per cui avevo bisogno proprio di cambiare alcune cosine e sono proprio andata alla ricerca di queste cosine e ho approfittato appunto dei saldi, ma siccome io non amo molto comprare tante cose tutte insieme perché poi rischio di confondermi e comprare cose a caso, ho preferito dividere in più sessioni questo shopping che era assolutamente necessario, per cui settimana scorsa ho comprato delle altre cose, alcune le ho ordinate anche online, adesso vi faccio vedere tutto, non sono tante cose ma tutte belle, tutte necessarie. Partiamo dalla parte beauty, come sapete già io adoro un sacco di cosine di Kiko e sono cose molto specifiche, allora partiamo dalla prima che ormai conoscete tutti ma se non la conoscete bisogna rimediare subito perché questa è una cosa proprio magica, la metti e fa miracoli, sono i patch per gli occhi, sono quelli che vi ho fatto vedere mille volte da queste parti, sono quelli al miele e sono veramente meravigliosi praticamente tu li metti e quando li togli sembra che ti hanno stirato proprio sotto gli occhi, sono proprio spettacolari e compro solo questi, li compro sempre e siccome erano super scontati ho fatto scorta anche perché ho anche una sorella che amo coccolare, quindi un po' per me, un po' per lei. Altre cosine che ho acquistato da Kiko, sempre di quelle che utilizzo già da tempo, è questo cosino qui, che è praticamente un lip primer, un primer per le labbra che fa effetto blur, funziona davvero una meraviglia, tu lo metti sulle labbra, te le ammorbidisce e le rende perfette per poi applicare rossetto o la matita come faccio spesso io. Quella che ho su adesso è proprio una matita, è di MAC, insieme al primer viene un risultato veramente stupendo vi faccio vedere più da vicino però io adoro questa combinazione. Poi sempre da Kiko ho comprato invece una cosa che non avevo mai provato ed è questo mascara qui, Stand Out Volume Buildable Mascara. Mi sono fatta convincere da questo buildable mascara quindi mascara che puoi andare a mettere strato dopo strato e costruire proprio il prodotto sugli occhi e costruire in questo modo anche le ciglia. E mentre sono molto fedele a quello che utilizzo ormai da qualche anno il Luxurious Lashes di Kiko, ho voluto dare fiducia a un prodotto nuovo e provarlo perché era poi scontato, ho detto proviamolo e l'ho già provato oggi per permettervi di vedere l'effetto sugli occhi e sono rimasta sconvolta dal risultato in senso positivo, nel senso che io faccio sempre fatica a utilizzare mascara quando è proprio nuovo e devo utilizzarlo giusto un paio di volte per poi arrivare a quell'effetto che piace a me e poterlo costruire strato dopo strato perché al primo non mi piace mai come viene il risultato e quindi faccio sempre un po' fatica, porto pazienza, poi dopo un paio di utilizzi la cosa si risolve ma con questo sono rimasta colpita guardate qua che meraviglia l'effetto è veramente wow, lo sto amando tantissimo e ho messo su diversi strati senza avere quell'effetto di ciglia che si appiccicano tra di loro e penso di aver trovato un nuovo preferito ma vedremo, vedremo come si comporta poi fino alla fine anche perché questo prodotto qua è nuovo per me in tutti i sensi nel senso che io sono una di quelle persone che ama ancora utilizzare il pennello classico quello con proprio i pellettini e non quello in plastica e ho fatto sempre fatica in passato quando ho provato dei mascara con il pennello in plastica e non mi ci sono trovata questo mi ha di nuovo stupita perché guardate qua è in plastica però vi confesso che è davvero meraviglioso cioè ha fatto un effetto perfetto poi quello che trovo particolare è questa forma un po' a spirale quindi non è proprio della stessa dimensione tutto il pennello e poi comunque è fatto in un modo per cui quando tu tiri fuori il pennello non c'è troppo prodotto su e lo trovo davvero geniale mi sono proprio fidata per una volta e ho scoperto una cosa bellissima anche la confezione è stupenda guardate qua che meraviglia forse rischio di cambiare il mio luxurious lashes il mio pennello classico anzi facciamo un sondaggio chi di voi come me ancora utilizza il pennello classico perché sembra che io sia rimasta l'ultima persona al mondo ad amare quel pennello lì però sono certa che ci sono tante altre persone che come me preferiscono quello classico qui sotto nei commenti apriamo il dibattito quindi scatenatevi finito la parte del beauty passiamo all'abbigliamento perché quello è quello che mi attira di più ovviamente partiamo da una cosa che sto amando tantissimo mi sono comprata un pigiama in seta 100% seta è di intimissimi ed è stupendo io ho già un pigiama di intimissimi in seta che adoro tantissimo è un colore un pochino più basic adesso ve lo faccio vedere perché tanto ve l'ho già fatto vedere da queste parti però ne volevo un altro di un altro colore e perché poi ho buttato via tutti i pigiami vecchi e volevo qualche cosa di più bello e di più particolare per coccolarmi un po' di più questo pigiama è bellissimo il colore è stupendo poi lo sapete sono un po' di parte perché sto amando il fucsia il rosa in tutte le tonalità però questo colore è veramente bellissimo anche in vista della primavera è molto molto caldo mi sembra proprio di indossare dei fiori come dicevo è in seta 100% il colore è blooming pink e sono stata fortunata di trovare i pantaloncini in negozio e li ho presi subito il top invece non c'era vi faccio vedere meglio anche il top non c'era sono andata a cercarlo subito sul sito e l'ho acquistato l'ho fatto arrivare in negozio è arrivato nel giro di pochissimi giorni e sono super contenta del mio acquisto ovviamente come sempre i link saranno tutti qui sotto nella descrizione mentre vi sto facendo vedere anche qui a lato come è addosso però questi pigiami qua sono una cosa in cui investire durante i saldi perché sono veramente stupendi questo è l'altro pigiama in seta che avevo già da qualche mese quasi un anno è di super qualità bellissimo un grigio molto molto bello molto prezioso vi confesso che sono un po' difficili da mantenere nel senso che non li puoi sbattere in lavatrice e aspettarti che siano così belli per sempre io li lavo sempre a mano e li stiro con il ferro da stiro a vapore se non avete quello proprio classico il ferro da stiro a vapore quello intendiamoci che usi per stirare verticalmente io ho provato il mio che è un semplicissimo ferro da stiro e ho appeso i pigiami ovviamente sulla parte interna e li ho stirati da appesi senza appoggiare il ferro ma solo semplicemente facendo uscire il vapore dal ferro da stiro e avvicinando leggermente il ferro da stiro al pigiama queste sono le uniche due cose che stirerò da qui a per sempre perché dormire bene è una cosa fondamentale e io mi ci voglio proprio impegnare e dedicare un po' di attenzione in più al sonno ma partendo proprio dalle cose basilari come il pigiama come curare proprio la routine prima di andare a dormire e per poi fare un po' di twist più importanti tipo limitare la tecnologia sono super colpevoli di questo però piano piano faremo questo cambiamento passiamo alle altre cosine intanto tra l'altro vi confesso che in realtà i pigiami in seta per me sono anche un investimento per i contenuti che creo anche su Instagram perché li faccio un sacco di reel e spesso compaio in pigiama e voglio avere un pigiama bello presentabile e ho comprato questo qua anche per quel motivo lì ma non solo ecco diciamo che è un investimento per me stessa ma anche per i contenuti che creo la seconda cosina che ho acquistato da intimissimi adesso questo visto così sembrerà molto molto strano anch'io quando l'ho visto ero un po' in dubbio ma avevo bisogno di un top con lo scollo molto molto profondo e a barchetta di modo da non farlo spuntare dai maglioncini un pochino più scollati con lo scollo a barchetta appunto e gli ho dato fiducia mi sono detta tanto se non è presentabile se non mi piace da indossare così com'è sarà con lo strato che serve sempre sotto i maglioni di quel tipo là ora io poi non contemplo molto i capi a coste non lo so qual è il mio problema con questo tipo di capi però è come se mi dessero una sensazione di cheap che non è il caso di questo ovviamente se no non ve lo starei facendo vedere anche perché ormai l'ho già anche indossato ed è stupendo parliamo prima di tutto nella qualità la qualità è wow questo maglioncino è un maglioncino è in seta e cotone è morbidissimo è comodissimo è bellissimo poi perché è lillino e lo sto amando alla follia questo solo la premessa era già perfetto sulla carta quando poi l'ho indossato sono rimasta tipo senza parole è stupendo e me ne sono subito innamorata appunto di andarne a comprare un altro perché ce n'era uno anche in un colore molto simile a quello del pigiama e sono super contenta di questo acquisto questo adesso lo sto indossando sotto i blazer sotto i maglioncini appunto però in primavera sarà anche perfetto da indossare anche da solo e sarà quello strato leggerino che però tiene caldo ed è anche super super stiloso scusate se intervengo in questo modo ma nel mettere via il maglioncino mi sono accorta che non avevo notato questa cosa qui praticamente il maglioncino ha dentro incorporato il bottone con la chiusura per chiudere dentro per fissare le bretelle del reggiseno insieme al maglioncino ed evitare che cadano giù che si vedano fuori dal maglione lo trovo veramente geniale non avevo mai visto una roba simile e dico solo ben fatto intimissimi questa è una grandissima cosa anche perché questo maglioncino comunque è un po' trasparentino e anche se io non ho tanto seno e quindi potrei anche indossarlo senza reggiseno per l'ufficio metterei comunque un reggiseno sotto e questa cosa è wow perché avrei rinunciato il reggiseno proprio per non avere quell'effetto di bretelle che si intravedono o che cadono ma in questo modo non c'è più il rischio infine come avevo anticipato nel video haul precedente dove vi avevo fatto vedere questi pantaloni qui ve li ricordate? che tra l'altro mi dovete perdonare io avevo scritto nel titolo del video che erano acquisti con i saldi questo non era un articolo in saldo e io faccio sempre così vado in negozio per i saldi e poi puntualmente mi innamoro di qualcosa che non è in saldo alzate la mano chi fa come me siamo in tanti lo so e questo appunto non era scontato però a me piaceva tantissimo e l'ho preso e se vi ricordate vi avevo detto che mi era piaciuto anche il blazer ma il blazer non c'era in negozio da H&M e l'ho ordinato online è bellissimo è stupendo strutturato sulle spalle il giusto molto fitted ma sento di doverlo aggiustare un pochino però devo trovare una buona sarta per farlo stringere un pochino di più sulla vita però questo completo mi dà tipo vibe da power woman livello 100.000 è stupendo poi con un paio di mocassini è veramente bellissimo sono super contenta anche di questo acquisto e non vedo l'ora di indossarlo perché ultimamente avete notato anche voi sto amando tantissimo i colori e sono passata tipo da neutro beige e non colori a un'esplosione di fucsia questo dice tutto e tra l'altro non so se siete già stati sul mio profilo instagram se non ci siete andati andateci perché ho giusto pubblicato un reel a proposito di roba fucsia e rosa è pieno all'armadio non so come sia successo però ho fatto tipo l'inventario delle cose per fare il reel con questo abito e mi sono ritrovata con metà armadio pieno di roba rosa e non mi sento in colpa vi dirò di più non mi sento in colpa va benissimo sto abbracciando un sacco questo amore ritrovato per il fucsia e dico ritrovato perché tipo vi devo confessare una cosa io ero una super fan di Avril Lavigne dico ero perché ormai non la seguo tanto ultimamente però tipo quando ero adolescente la adoravo letteralmente indossavo solo roba fucsia e è stato un periodo bellissimo e ora capisco il perché il fucsia mi fa stare bene perché è proprio il mio colore e quando lo indosso mi vedo proprio raggiante per cui sono proprio contenta di aver ritrovato questo amore per il fucsia il rose il magenta tutte le varie sfumature sono super belle con questo io concludo il video è tutto mi sono dilungato un po' perché mi piace sempre parlarvi un sacco e non mi do limiti in questo ma basta per oggi grazie di essere passati di qui anche questo sabato io vi saluto vi mando un mega abbraccio gigantesco ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video ma fino ad allora mi raccomando prendetevi cura di voi ciao